E' molto complicato trovare il rapporto tra la volontà di essere madre e quindi gestire la famiglia e quello comunque di fare carriera. E' sempre un equilibrio molto difficile, a volte tocca lasciare delle cose più indietro rispetto ad altre, quindi c'è sempre un rapporto di equilibrio tra il mondo del lavoro e il mondo della famiglia. Come Cinzia, imprenditrice aretina di 41 anni, madre di due bambini, Matteo e Alessio, e alla guida di un'azienda che si occupa di arredamenti, sono sempre più al giorno d'oggi le donne che cercano di conciliare il ruolo di madre e quello alla guida di aziende. Le imprese in rosa rappresentano nel territorio aretino circa il 23% del totale, nel terzo trimestre 2016 erano 8.996. Nell'universo delle donne imprenditrici il 24,7% lavora nel settore del commercio, oltre il 20% invece in quello dell'agricoltura, segue il settore manifatturiero con il 12,8% delle imprese. Il 10,1% infine rappresentato dall'attività di servizio e oltre il 9% delle imprese in rosa riguarda i servizi di alloggio e ristorazione. Coniugare lavoro e cura della famiglia è la sfida che vive quotidianamente Cinzia, come tante altre mamme lavoratrici. L'apporto di avere due bimbi è comunque difficoltoso perché molto spesso la continuità scolastica non aiuta perché le istituzioni molto spesso non danno la possibilità di avere di appoggi anche dal punto di vista nel pomeriggio per fare i compiti e quindi comunque una donna soprattutto si deve organizzare per portarsene a volte al lavoro piuttosto che magari anche trovare delle soluzioni intermedie. Purtroppo mancano anche proprio degli appoggi esterni dal punto di vista sociale, quindi istituzionale, per avere questo appoggio appunto da parte dello Stato nei confronti della donna che lavora.